Perdonate tutto la confessione non sia una tortura e l'appello ai sacerdoti pronunciato da Papa Francesco oggi in visita pastorale a Verona. Il voto è importante, è necessario partecipare e l'invito dell'Arcivescovo di Manfredonia, Padre Moscone, in una lettera alla comunità in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Presentata oggi la nuova offerta culturale dell'Arcidiocesi di Otranto che punta anche su nuovi canali di comunicazione. Giustizia e transizione 5.0, il valore delle persone e della sostenibilità. E' questo il focus del 25esimo convegno nazionale organizzato a Trani dall'Associazione Dirigenti di Giustizia. Bentrovati alla prima edizione del nostro telegiornale di Teledeon. Perdonate tutto, la confessione non sia una tortura e l'appello di Papa Francesco rivolto ai sacerdoti durante il primo incontro di questa mattina avvenuto nella Basilica di San Zeno a Verona. Per il fontefice è stata la prima delle tappe della sua visita pastorale. Al termine in piazza l'incontro con circa 5.000 bambini e ragazzi. A seguire l'evento Arena di Pace, Giustizia e Pace si baceranno. Dopo la visita del Papa ai detenuti presso la casa circondariale, l'ultimo atto, la concelebrazione eucaristica presso lo stadio. Ascoltiamo. È bello trovarci in questa Basilica Romanica e guardare questo splendido soffitto a carena ci fa sentire come dentro a una grande barca e ci fa pensare al mistero della Chiesa, la barca del Signore che naviga nel mare della storia per portare a tutti la gioia del Vangelo. Quest'immagine evangelica ci ricorda almeno due cose sulla quali vorrei soffermarmi con voi. La chiamata ricevuta è sempre da accogliere e la seconda è la missione da compiere con audacia. cerchiamo di non perdere mai lo stupore della chiamata. Se smarriamo questa coscienza e questa memoria, rischiamo di mettere al centro noi stessi invece che il Signore. A tutti, lo ripeto, a tutti dobbiamo portare la carezza della misericordia di Dio. Per favore, perdonate tutto. E se voi non siete capaci in quel momento di capire, vai avanti, il Signore ha capito. Ma per favore, non torturare i penitenti. E perdonare senza far soffrire. Perdonare aprendo i cuori alla speranza. A voi, sacerdoti, vi chiedo questo. E allora vorrei dirvi, con San Paolo, siete audaci nella missione. Sapete ancora oggi essere una chiesa che si fa prossima, che cura le ferite, che testimonia la misericordia di Dio. E' in questo modo che la varca del Signore, in mezzo alle tempeste del mondo, può portare in salvo tanti che altrimenti rischiano di naufragare. Sfiduciati verso l'Europa, ma europei per nascita e formazione. Così il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, ha definito i giovani nel corso di un convegno. Il Cardinale ha inviato una lettera a Bruxelles, con domande su cosa si può fare per rendere migliore l'Unione Europea. Sentiamo. I giovani che nei sondaggi risultano essere i meno fiduciosi nei confronti dell'Europa, in realtà sono i più europei per formazione e per nascita. L'ha detto il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Zuppi, nel corso di un convegno che si è svolto a Bologna e dedicato all'etica e allo sviluppo sostenibile. Per il Cardinale l'Europa è un concentrato di valore della vita e della persona che è importantissimo, altrimenti c'è solo la logica del mercato. In passato, ha continuato, l'etica sembrava solo il freno a mano tirato che impediva lo sviluppo dell'economia. Poi si è visto che non è così. Abbiamo reso l'etica antipatica e l'abbiamo fatta sembrare quasi inutile, ha continuato, evidenziando che la nostra Costituzione invece è piena di etica. Zuppi ha così citato l'articolo 4, secondo cui ognuno deve svolgere una funzione che concorra al benessere materiale o spirituale della società. Questo, ha sottolineato, è un concetto etico fortissimo. Per il Presidente della CEI bisogna nutrire la speranza che è nelle radici dell'Europa. E poi si è detto molto preoccupato e anche per questo nei giorni scorsi, prima delle prossime elezioni europee, ha scritto una lettera a Bruxelles. Vogliamo fare qualcosa insieme o vogliamo solo un condominio dove qualcuno comanda un po' più di altri e si decide poco? L'interrogativo che si è posto il Presidente della CEI. Vogliamo la pace o solo una tregua? Perché mi pare, ha concluso, che ricominciamo a preparare la guerra per avere la pace. L'Arcivescovo di Manfredonia, Padre Moscone, in una lettera alla comunità, invita la partecipazione al voto in vista degli europei e delle amministrative per mantenere vivi l'amore e il servizio per la propria comunità. Ascoltiamo. Raccomando a tutti gli elettori la responsabilità della partecipazione e ai candidati di avere il coraggio di assumere la missione della politica come arte di carità e come opera di pace sociale, favorendo la costruzione di modelli sani di economia sul nostro territorio. E' quanto si legge in una lettera scritta dall'Arcivescovo di Manfredonia, di Este, San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il riferimento è alle europee e alle amministrative che si svolgeranno in tre comuni dell'Arcidiocesi, ovvero Manfredonia, San Giovanni Rotondo e le Isole Tremiti. L'Arcivescovo sprona tutti i cittadini e i futuri amministratori eletti a mantenere sempre vivi l'amore e il servizio per la propria comunità, custodendo, vigilando e svegliando le coscienze facilmente assopite delle collettività. Occorre vigilare, aggiunge, perché la libertà promessa dal Vangelo e difesa dalla Costituzione non venga tradita, barattata o mercanteggiata con moneta scaduta, promettendo favori e costruendo uno stile di vita che termina al correndere dipendenti tutti dai poteri forti, sempre in mano a pochi e agli stessi. Padre Moscone, affidando la comunità a San Michele Arcangelo, chiede che nel popolo laico si sveglino il senso civico e le responsabilità civili perché il gargano non può permettersi di lasciarsi addormentare dalla sfiducia o paralizzare dalla paura. È stata presentata oggi la nuova offerta culturale dell'Arcidiocesi di Otranto che punta anche su nuovi canali di comunicazione. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Alba Di Palo. Due C che segnano l'inizio di un nuovo cammino per l'Arcidiocesi di Otranto, due direttrici che intendono creare un legame costante e proficuo con la comunità. Comunicazione e cultura diventano così capisaldi della nuova missione dell'Arcidiocesi che ha rinnovato il proprio sito e le pagine social per creare amicizia, fratellanza e comunità e lavorare per il bene della società, ha spiegato l'Arcivescovo Monsignor Francesco Neri nel corso della conferenza stampa di presentazione delle novità. I mezzi di comunicazione non sono fini a se stessi, pur essendo in se stessi affascinanti, ma sono dei mezzi per stabilire contatti tra le persone, amicizie che nascono magari nell'ambiente digitale e che poi io auguro vivamente si traducano in una presenza diretta, in carne e ossa qui nella bellissima città di Otranto. Quindi dal mondo digitale spero che si venga attratti a passare all'incontro personale tra esseri viventi che diventino amici qui a Otranto. Le innovazioni digitali si concretizzano in tre piattaforme. La prima è dedicata all'attività dell'Arcidiocesi con quattro aree, fede, mondo, cultura e persona. L'obiettivo è di dare vita a un ecosistema in grado di valorizzare le diverse realtà della comunità pastorale. La seconda è relativa al pavimento musivo della cattedrale. Si tratta di un progetto multimediale con immagini e schede che offrono a chi naviga tra i tesori artistici emozioni e bellezza. La terza piattaforma riguarda il Museo Diocesano e le sue diverse sezioni che saranno fruibili dopo i lavori dal prossimo 21 giugno. Il sito non dimentica le news che raccontano attività e iniziative. Tre a informare sulla vita della diocesi di Otranto permettono anche di conoscere e di far emergere la vitalità. Molto spesso vengono realizzate tantissime cose, tantissime belle cose di cui purtroppo nessuna notizia. I percorsi digitali diventano così le nuove strade del Vangelo. I padri della Chiesa ringraziavano la provvidenza perché le strade costruite dall'impero romano permettevano anche la diffusione del Vangelo. Oggi le strade sono quelle dei canali digitali. Faccio presente che la Santa Sede è stata pioniera nell'organizzare un sito web che a quei tempi era molto d'avanguardia, lo è tuttora. E quindi noi veniamo in questo flusso ad Otranto per inserirci nel linguaggio della società contemporanea. E cambiamo argomento. Giustizia e transizione 5.0. Strategie per un cambiamento centrato sulle persone e la sostenibilità. E' stato questo il titolo del 25esimo convegno nazionale organizzato a Trani dall'Associazione Dirigenti Giustizia. Nel prossimo servizio l'intervista cura di Luca Ciciriello. In quale direzione si muove il mondo della giustizia? Il mondo della giustizia ha bisogno molto di manager e dirigenti che svolgano il lavoro che è necessario venga fatto in tutte le organizzazioni complesse. Noi siamo un'associazione di dirigenti che si occupano di organizzazione giudiziaria ed è importante che vengano messi a fuoco i temi di cui noi professionalmente ci occupiamo. Per il buon funzionamento della giustizia e per i risvolti che possono questi avere sul cittadino. Quindi ci teniamo alla transizione verso strumenti digitali, ci teniamo alla sostenibilità della nostra organizzazione, quindi a temi che attengono a quante risorse impieghiamo per ottenere buoni risultati per i cittadini. Come attuare queste strategie che pongono al centro la persona e la sostenibilità? Attraverso buone politiche del personale, attraverso un buon impiego delle risorse, attraverso la qualificazione di figure che hanno competenze professionali tecniche che possano integrare e sostenere il lavoro degli uffici giudiziari e dei magistrati. Ritiene che oggi gli uffici giudiziari abbiano bisogno di più personale? Hanno bisogno anche di più personale, ma hanno bisogno soprattutto di reclutamenti mirati di persone che vedano il loro futuro nella nostra amministrazione come un futuro attrattivo, un futuro sfidante, un futuro che gli permetta di impiegare al meglio i propri contributi e le proprie capacità. E restiamo nella città di Trani, protagonista del progetto di educazione civica ambientale Portiamo il Festival nelle scuole. Obiettivo? Formare i cittadini del domani. Ascoltiamo. Che cosa fare per avviare e per realizzare una sostenibilità ambientale? Beh, innanzitutto per realizzare un'efficace politica di sostenibilità ambientale c'è bisogno della consapevolezza, perché c'è bisogno di tutti e quindi i cittadini devono essere consapevoli, devono conoscere il problema e devono anche sapere quali sono le possibili soluzioni. Ecco perché questo progetto è tanto prezioso, perché consente di spiegare ai più giovani cosa sia il cambiamento climatico, cosa significa il rispetto dell'ambiente e quindi anche quali siano i giusti comportamenti. E questo significa costruire già oggi il cittadino di domani consapevole, che conosce il problema ma che conosce anche le soluzioni e che quindi molto probabilmente prenderà le decisioni giuste. Questo progetto si collega all'organizzazione del Festival del Cinema e del Mare, quest'anno è giunto alla sua quarta edizione. Ho pensato di coinvolgere le scuole perché i ragazzi sono il nostro futuro e perché non fare un progetto di sensibilizzazione attraverso il cinema, che è l'unico mezzo di comunicazione che arriva a tutti quanti noi, quindi i ragazzi si sentono protagonisti. Questo è un progetto dove loro attraverso le lezioni che stiamo organizzando, che abbiamo organizzato, quest'anno è già la seconda, appunto con il coinvolgimento di Meteo Expert, Andrea Giuliacci, con ACI, con AMIU e quindi con il cinema, quindi facendo vedere appunto cortometraggi, cartoni animati, loro realizzeranno questi lavori che poi verranno premiati il giorno della sensibilizzazione. Li abbiamo, diciamo, spinti o meglio li abbiamo un po' così sfidati ad organizzare e ad ideare uno slogan per il Festival del Cinema e del Mare, quindi loro si sentono protagonisti di questa iniziativa al 360 gradi, lo vediamo dall'entusiasmo. E voltiamo pagina, la sartoria raccontata dagli scatti di due studentesse dell'Istituto Colasanto di Andrea e il progetto Amore Perduto. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Descrive l'arte della sartoria attraverso 30 scatti Amore Perduto. La mostra fotografica inaugurata nella scuola Colasanto di Andrea è realizzata da un atelier andriese in collaborazione con Lorena Zingaro e Miriana Bruno, due studentesse dell'Istituto Scolastico Cittadino. Con questa esperienza ho avuto il piacere di immergermi completamente in questo mondo e scoprire tutto quello che c'è dietro alla sartoria che molte volte è sottovalutato perché molte volte tendiamo a soffermarci su quello che guardiamo, ovvero un abito, un capo di avviamento, ma non andiamo oltre, non pensiamo a tutto quello che potrebbe esserci dietro. Grazie a questa esperienza ho capito davvero quanto significa lavorare, ho capito quanto sia duro, sia bello, ma allo stesso tempo io penso che bisogna scegliere un lavoro perché lo si ama e non per altro e infine mi rendo conto quanto sia bello tramite questo lavoro esprimere noi stessi al 100%. La mostra resterà a disposizione degli studenti per una settimana. Per i ragazzi è veramente importante avere a che fare con il mondo del lavoro perché quello che studiano a scuola poi, come dire, lo riversano all'interno di una realtà produttiva. L'idea è stata quella di trasferire la passione e la cura necessarie per realizzare un lavoro che non è soltanto artigianale, bensì creativo, cercando di non trascurare il valore delle realtà del territorio, custodi di sapere e tecniche antiche. Pur essendo a digiuno di un'esperienza circa la fotografia si sono espresse con assoluta passione e creatività, raccontando quello che è l'itiner sartoriale del nostro atelier. Il comparto moda italiano ne sente una forte mancanza, ogni anno si decimano figure come sarti e modellisti. Ed è dunque, pardon, il nostro assoluto obiettivo quello di veicolare questa mancanza e soprattutto di offrire la possibilità di credere in una proposta alternativa di lavoro. E parliamo d'arte. È stato presentato a Milano, nella sala del Palazzo Reale, il libro scritto dal giornalista barlettano Nino Vinella sul celebre artista e pittore Giuseppe De Nittis. Ascoltiamo. È stato un omaggio alla figura del pittore Giuseppe De Nittis, quello che Nino Vinella ha voluto proporre con il suo libro A Tavola, con De Nittis italien, painter gourmet e i suoi amici. Un percorso breve ma intenso di una realtà sconosciuta in più ma molto legata al famoso artista barlettano, quella della Buona Tavola. Sede dell'evento la prestigiosa sala di Palazzo Reale, a pochi metri dal Duomo di Milano, è a fianco della mostra inaugurata il 24 febbraio, che proprio attraverso 90 opere ripercorre l'intero percorso della breve vita del grande pittore, che ha diviso la propria esistenza fra l'Italia e Parigi con un passaggio importante a Londra. E lo stesso Vinella, giornalista e scrittore, che con De Nittis condivide i Natali a raccontare i perché del libro. L'umanità di un artista, di un creativo, di uno scultore, di un pittore, la si capisce subito e viene evidenziata non dalle grandi mosse, dalle mostre, dalle esposizioni, dalle gallerie, ma soprattutto dai piccoli gesti quotidiani. Bene, io ho raccolto dei frammenti della sua vita quotidiana già esistenti in letteratura, per cui li ho cuciti uno per uno, a dimostrare l'inclinazione del nostro pugliese, del figlio della città di Barletta, per la buona cucina. Nella buona cucina lui riusciva ad esprimersi come se fosse un artista dei fornelli, tant'è vero che i suoi salotti parigini erano frequentati da francesi, che erano invitati e attratti non tanto dalle chiacchiere da salotto, quanto soprattutto dai suoi piatti, dai maccheroni cucinati alla sua maniera, dagli spaghetti fatti alla sua maniera e anche dalle zuppe di pesce, per cui c'era tutta una consuetudine che abbiamo ritrovato nei libri che dimostra quanto il bon ton in cucina sia proprio una ricchezza in più che abitua a familiarizzare e a entrare in empatia. Il suggello alla giornata e il plauso critico alla figura dell'artista barlettano è arrivato dal direttore della cultura del comune di Milano e di Palazzo Reale, Domenico Piraina. Il loro salotto era famosissimo a quei tempi, peraltro un salotto che ha ospitato le personalità artistiche e culturali della Francia dell'epoca. Era un salotto molto ben frequentato e Denitis in quelle serate, i famosi sabato a casa di Denitis, si direttava a fare quello che oggi verrebbe definito uno chef, perché lui si interessava molto nell'arte culinaria e questo è un tema interessante, questo trattato da Vinella, perché rappresenta un altro aspetto, certo meno conosciuto di quello artistico, del nostro Peppino Denitis. Il Festival della Valle d'Itria di Martina Franca tocca il traguardo della cinquantesima edizione con un calendario ricco di eventi dal 17 luglio al 6 agosto 2024. A Roma sono stati illustrati i dettagli dell'iniziativa, tra concerti, teatro e mostre fotografiche. Vediamo. E fra le più antiche manifestazioni estive dedicate all'opera e alla musica vocale, la prima del mezzogiorno e quest'anno festeggia mezzo secolo di storia. Parliamo del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca, il cui ricco calendario conta un totale di 30 eventi e si snoderà dal 17 luglio al 6 agosto 2024. Una sfida che portiamo avanti da 50 anni, ha spiegato a Roma durante la presentazione del programma degli eventi di Michele Punzi, presidente della Fondazione Grassi, ente organizzatore del Festival. Una storia fatta di riscoperte, ma anche di tante novità. È un futuro che non può prescindere, a mio avviso, da quello che è il turismo culturale, di quello che è l'economia della cultura. È un turismo sicuramente che non conosce crisi, che non conosce stagionalità, ma che pretende offerta e servizi di qualità. E noi come Festival della Valle d'Itria ci impegniamo per questo, perché il nostro territorio, questo lembo di Puglia, venga illuminata da una luce speciale nei 20 giorni di eventi che ci sono appunto a Martina Franca. Tre titoli d'opera, concerti, spettacoli di prosa, giornate di studio, una mostra e la proiezione di un documentario inedito e la sintesi di un evento firmato dal direttore artistico Sebastian Schwarz, che avrà come cornice alcuni luoghi simbolo di Martina Franca, il Palazzo Ducale, il Teatro Verdi, nonché le piazze e le contrade all'ombra degli uliveti secolari. Invitiamo il nostro pubblico anche nella Valle d'Itria, nelle più belle masserie, che facciamo risuonare di musica, musica da camera, lideristica, la canzone napoletana, tanti stili di musica diverse che vogliamo condividere col nostro pubblico. Quindi tanta varietà, tanti stili diversi, tante musiche diverse, in luoghi diversi, perché siamo sicuri che così qualcuno, ciascuno di noi, troverà qualcosa da godere. Alla scoperta dell'operoso mondo delle api, per celebrare la giornata mondiale dedicata agli insetti impollinatori, apre le sue porte Torre Alemanna, sito a Borgo Libertà nel comune di Cerignola, per l'occasione allestita una mostra fotografica sulla natura e le piccole api. Vediamo. Un'occasione per conoscere più da vicino l'attività svolta dai laboriosi insetti impollinatori, Torre Alemanna, sito a Borgo Libertà nel Cerignolano, riapre le sue porte in occasione della giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio di ogni anno. L'iniziativa, che si svolgerà il prossimo 24 maggio, è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del comune di Cerignola, un complesso museale tra i pochi insediamenti fortificati dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici, ancora esistente nell'area mediterranea. Un appuntamento, quello in programmazione, pensato per grandi e piccini, tra strisce dorate e nere e battiti di ali. Generalmente si percepiscono come pericolose, fastidiose, perché pungono. Invece è giusto che si vada oltre questo aspetto. L'idea è quella di accompagnare i bambini attraverso un percorso fotografico dove avranno la possibilità di vedere realmente quello che è il mondo delle api, per poi capire con l'apicoltore Flaviano Ieronimo della cooperativa Ortovolante cos'è un'arnia, conoscerne quindi la struttura e vedere tutte le fasi che portano poi al miele. Animaletti che sono alla base della catena alimentare, senza di loro mancherebbe l'impollinazione dell'80% degli alimenti che consumiamo sulle nostre tavole. Ed è tutto per questa prima edizione, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia dei nostri programmi televisivi. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!